Oggi sono casatissimo, perché è il mio primo video unboxing e recensione. Insomma, il battesimo di ogni youtuber. Mi ha chiamato la PharmaFlex, un marchio italiano specializzato in dispositivi ortopedici, soprattutto per quanto riguarda la qualità del sonno. E mi hanno detto Begherino, vorresti provare il nostro cuscino? E io mi son detto Perché no, non devo fare neanche fatica, lo provo mentre dormo. Ma prima di iniziare, voglio fare una precisazione. Non amo fare marketing e pubblicità, soprattutto perché la mia è una professione sanitaria e stiamo parlando della salute dei pazienti e di dispositivi medici. Tutto quello che dico nel mio canale si basa sulla ricerca scientifica e sono cose in cui credo profondamente. Anche per questo video o per eventuali altri unboxing futuri dirò le caratteristiche oggettive del prodotto che mi hanno inviato e quello che io ho riscontrato nella propria pratica. Ma torniamo all'argomento principale e vediamo cosa PharmaFlex mi ha inviato. Eccolo qua. Si tratta di un dispositivo medico made in Italy per migliorare la qualità del sonno riducendo il dolore al collo o fastidio muscolare cervicali. Questo dispositivo ha l'obiettivo di ridurre i dolori muscolari e i dolori cervicali causati durante la posizione mantenuta durante la notte che come sappiamo rappresenta circa un terzo del tempo della nostra vita. La cosa bella è che si può ordinare il prodotto direttamente da internet e dal loro sito. Ti lascio il link qui sotto in descrizione. E ti verrà spedito in questa confezione. Ma la cosa principale è che ha a disposizione 14 giorni di prova gratuita. Questa è una cosa che mi è piaciuta molto perché denota grande serietà da parte dell'azienda. Nella confezione vengono anche elencate tutte le caratteristiche. Ma adesso apriamolo e poi parliamo delle caratteristiche di questo cuscino. Allora, vediamo che cosa si nasconde dentro. All'interno troviamo una confezione sotto ruoto. Bisogna aprirla e lasciare che il cuscino prenda la sua forma. Si è praticamente già gonfiato e possiamo già notare le tipiche curve da cuscino ortopedico. Ma parliamo un attimo delle sue caratteristiche. Come ti dicevo, è un dispositivo medico-ortopedico realizzato a mano in Italia. Non sottovalutare questa cosa perché tutti i dispositivi medici devono subire determinati controlli e approvazioni per poter avere la certificazione di dispositivo medico. Ed è composto da un particolare materiale chiamato ISL, che è un'evoluzione del memory foam messo a punto da PharmaFlex. Questo materiale è stato studiato per essere permeabile all'aria e per avere una densità di 45 kg per metro cubo. Questa densità serve a garantire un ottimo sostegno cervicale, riducendo l'impegno dei muscoli e delle articolazioni durante la notte. Pesa 1,3 kg e ha delle dimensioni di 71 cm x 42 cm. Queste dimensioni sono definite king size, speriamo che ci stia nel mio fede, ed è dotato di due altezze differenti, una da 11 cm e una da 13 cm, così da essere personalizzabile in base alle tue caratteristiche fisiologiche e alla posizione in cui dormi. Diamo un'occhiata anche al suo interno. Noto ora che è provvisto di due rivestimenti, fra poco parleremo anche del rivestimento esterno, ma vediamo all'interno che cosa è nascosto. Possiamo in questo modo apprezzarne il materiale, che è una schiuma veramente piacevole al tatto, e soprattutto la tecnologia ThermoFlex. È una particolare tecnologia che garantisce un continuo incambio d'aria, così da mantenere la temperatura costante sia in estate che in inverno. Infine, come ti dicevo, due parole riguardanti il rivestimento esterno. È un rivestimento realizzato in fibra di carbonio e la PharmaFlex è la prima azienda sul mercato a utilizzare questo tipo di materiale. È un tessuto tecnico, analergico, antivirale, molto resistente e antibatterico. Sotto la cover in carbonio troviamo un altro telo protettivo in cotone 100%. Entrambi sono estraibili e lavabili. È entrato perfettamente nella mia federa. Inoltre in confezione trovi anche il libretto illustrativo dove vengono riepilogate tutte le caratteristiche e ha a disposizione due anni di garanzia. Insomma, non mi resta che provarlo. Oggi siamo a lunedì e lo proverò fino a domenica. Alla fine di questo video ti dirò il mio parere nel provarlo e soprattutto cosa dici la ricerca scientifica riguardo i cuscini ortopedici. E ti ricordo che per maggiori informazioni o per ordinare la tua prova gratuita puoi andare a cliccare nel link in descrizione. Ed eccomi qua. Dopo averlo provato per sei notti voglio dirti le mie impressioni. Ma prima di tutto diamo un occhio a che cosa dice la ricerca scientifica riguardo i cuscini ortopedici. Nelle ultime ricerche sistematiche sembra infatti che in caso di dolore o disfunzione a livello cervicale sia vantaggioso dormire con un cuscino ortopedico. Il suo utilizzo aiuta a ridurre i dolori a livello cervicale e la rigidità muscolare. Ma entriamo nello specifico nel prodotto che ti ho presentato e ti dico come sono andate le mie nottate. Onestamente io non ho grossi problemi a livello cervicale né soffro di rigidità o di dolori. Ma posso darti la mia opinione per quanto riguarda le mie sensazioni e il comfort che ho ottenuto. Nello specifico ho dormito sia a pancia in su che sul fianco scegliendo la curvatura più bassa. Ma come dicevamo in precedenza questo dipende dalle tue caratteristiche fisiologiche e probabilmente anche dal sintomo che il paziente presenta. E devo dire che sono rimasto molto sorpreso per quanto riguarda il comfort e il sostegno che il cuscino riesce a dare a livello cervicale e alla testa. Infatti appoggiando il bordo del cuscino proprio a livello delle spalle si ha la possibilità di avere il ribuntamento sotto il collo ed avere un ottimo appoggio per il capo. La consistenza del cuscino mi è sembrata perfetta. Infatti ha il giusto grado di morbidezza per poter accogliere e dare quella sensazione di essere come sopra una nuvola ma anche la giusta densità per poter sostenere le tue articolazioni. Ed è proprio vero che dormendo a pancia in su ti dà una sorta di effetto di trazione a livello cervicale. Per quanto riguarda la regolazione termica devo dire che non ho avuto una grande sensazione di freschezza. Però in questo momento in cui l'ho provato siamo in piena estate e non ho neanche sentito l'oppressione o il calore che un cuscino tradizionale in genere mi dà. Insomma ci ho dormito bene, il comfort è buono e il sostegno a livello cervicale è ottimo. A mio parere, ma è anche ciò che viene fuori dalla ricerca scientifica, se soffre di dolori, disfunzioni o limitazioni a livello cervicale, soprattutto se queste vengono fuori nelle prime ore del giorno, utilizzare un cuscino ortopedico può essere la giusta strada e questo che ti ho presentato è sicuramente un ottimo prodotto. Se invece il dolore compare durante il lavoro, lo sport o in altre attività, probabilmente la strada da percorrere è un'altra e il tuo fisioterapista di fiducia saprà sicuramente i dati, i giusti consigli e le giuste indicazioni. Ti ricordo che l'azienda mette a disposizione il cuscino per 14 giorni di prova gratuita, ti lascio il link qui in descrizione per poter effettuare l'ordine e per avere maggiori informazioni. Ed iscriviti al canale perché ogni settimana parleremo del mondo dello sport, della riabilitazione e della preparazione atletica. Io mi godrò il cuscino per altre notate e noi ci vediamo al prossimo video!